Quando si dice derby non ci sono valori tecnici, non c'è classifica che tiene, che poi quello che si mette in campo va al di là di tutte queste situazioni. E oggi il Real Catanzaro conquista il primo punto in trasferta proprio sul campo della Kennedy in un derby accesissimo, bello diciamo a tratti. Misterio Salvatore Folino, voi avete fatto una buona partita, però a me è sembrato che i suoi giocatori cercassero più la soluzione estemporanea personale. Annalisi giusta, la tipica partita dell'ultima in classifica che viene un pochettino sottovalutata. Noi l'avevamo preparata durante le settimane, io non avevo raccomandato altro che per me era la partita più difficile del girone d'andata. E si è verificata così. Loro hanno fatto solo due tiri e hanno fatto due gol su calci piazzati. Il secondo purtroppo il nostro porcerino un 2000 ci ha messo un pochettino dal suo, ma sono gli errori di gioventù. Sbagliando si impara. Comunque penso che forse noi meritavamo qualcosina in più per la mole di gioco che abbiamo sviluppato, però loro naturalmente sportivamente dobbiamo dire che non hanno rubato niente, perciò diciamo che il pareggio è giusto. Un po' di confusione nell'area avversaria perché probabilmente non si mantenevano i ruoli. Sì, poi quando si viene preso dalla frenesia, che si è in svantaggio, si recupera la partita, si vuole vincere a tutti i costi, poi si fa confusione, non si hanno le idee chiare, saltano tutti gli schemi. Il calcio purtroppo è questo qua. E si rischia anche di perderla perché in due occasioni sono scappato il numero 11, ma è mancato poco che vi castigasse. Ancora su leggerezze nostre, voi l'avete visto benissimo la partita, ancora due errori dei nostri, diciamo che alla fine ci è andata bene che non l'abbiamo perso. E dicevamo un Real Catanzaro che riesce a prendere questo primo punto in trasferta, io la butto sulla battuta. Dirigente del Primerano, avete aspettato quando ci fosse un ciotolome in panchina? No, 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 assolutamente. Il mister per motivi di salute non è stato qua con noi, ma sicuramente avrebbe gioito anche lui di questo punto fatto con sofferenza, i ragazzi si sono battuti bene. È stata una partita abbastanza combattuta. C'era dell'agonismo in campo, ovviamente che ci deve essere, qualunque tipo di partita. Niente, siamo soddisfatti di questo punto, speriamo che sia un buon di auspicio per un buon inizio del 2018. A un certo punto avete accarezzato anche la possibilità della vittoria perché siete stati in vantaggio, poi vi hanno raggiunto, addirittura poi avete avuto due grandi occasioni. Sì, abbiamo avuto 2-1, l'ultima occasione con Stefano, un nuovo entrato nel gruppo, che si è comportato abbastanza bene, come si è integrato pure abbastanza bene, quindi aspettiamo che l'evoluzione del nuovo anno ci portino buone cose. A noi ce l'avrei potuta fare questa domanda, ma a un dirigente gliela faccio. Perché si deve soffrire tutti gli anni così? Non lo so, è una domanda alla quale non sempre si può rispondere a questo. Ovviamente i giovani di oggi sono diversi dalle aspettative, da quello che eravamo un po' noi anzianotti. Ecco, mi riferisco pure a anzianotti. Pazienza, vediamo di poter aggiustare un po' la situazione, riprendere il tutto in buona forma con l'inizio dell'anno. Ci auguriamo il meglio per il proseguo del campionato. È un piacere avere l'opportunità di avere al mio microfono, Franco Onestico, un dirigente storico del calcio calabrese, della Kennedy in particolare. A lui chiedo un augurio per tutti gli sportivi, per tutti i tifosi e per tutte le squadre. Certo, siamo in prossimità del Natale, della fine d'anno. Io auguro a tutte le squadre, a tutti i calciatori, un felice Natale, una buona fine e un buon inizio. Con l'augurio che sui campi ognuno si comporta in maniera sportiva e della cosa migliore. Lasciate stare il risultato, pensate soltanto a giocare a palla.